Allora, fai quell'incontro? Sì, comincio ad allenarmi domani. Ah, Rolfi, sto facendo qualche telefonata. Potrei fare un po' di soldi con queste iniziative, che dici? Hai fatto bene, continua pure. Grazie, Rolfi. Prego. Ok. Sarai un po' nervoso, immagino. Sto morendo di paura. Però non sembra. Perché cerco di nasconderlo. E allora, chi ti obbliga a farlo? Nessuno. Lo faccio e basta. Sai, sai una cosa? Vivere con te non è stato facile. La gente vede me e pensa subito a te. E con quello che hai deciso di fare, adesso sarà ancora peggio. Vedrai, non succederà. E succede invece. Perché? Hai la tua personalità. Avere il tuo cognome è pesante. Per questo non ho trovato un lavoro decente. La prima cosa che la gente mi chiede è se sono tuo figlio. E adesso che finalmente cominciavano a dimenticarti e io iniziavo a essere considerato per quello che valgo, adesso tu rispunti fuori. Ti prego papà, ti chiedo un grande favore. Non continuare in questa idiozia perché finirà male non solo per te ma soprattutto per me. Io ti farei del male? Sì, lo stai facendo. Questa è l'unica cosa al mondo che non farei. Lo so benissimo che non è questo il tuo scopo ma purtroppo la realtà è questa. Tu dici che te ne freghi di quello che pensa la gente ma come fanno a non infastidirti le barzellette che circolano su di te nelle quali sto entrando anche io adesso? Io non lo sopporto! Non è giusto! Sai, Robert, una volta ti misi qui nel palmo della mano ti tirai su e poi dissi a tua madre questo è il più bel bambino del mondo guarda, Adriana, questo bambino diventerà certamente qualcuno e tu crescevi bello, sano, forte vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa e quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo di affrontare il mondo, l'hai fatto ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare non sei esistito più hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo sono cresciute le difficoltà ti sei messo alla ricerca del colpevole e l'hai trovato in un'ombra ora ti dirò una cosa scontata guarda che il mondo non è tutto rose e fiori è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere se glielo permetti ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita perciò andando avanti non è importante come colpisci l'importante è come sai resistere ai colpi come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti così sei un vincente e se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo vince solo se sa resistere non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia i vigliacchi fanno così e tu non lo sei non lo sei affatto comunque io ti vorrò sempre bene Robert non può essere altrimenti tu sei il mio figlio sei il mio sangue sei la cosa migliore che ho al mondo ma finché non avrai fiducia in te stesso la tua non sarà vita grazie a tutti Grazie a tutti.